Ore 21 e 3, via Calzoioli, Firenze, manifestazione pacifica. Come vedete siamo qui Chiara Pelagotti per foto e notizie in piazza del Duomo insieme ai manifestanti, tanta gente con scritte, bandiere, la gente è arrabbiata, però pacifica, la manifestazione per il momento è pacifica. Signora lei ha un'attività? Certo, sono ristorante. Dove? Comune di Firenze, Reggendo. Com'è messa? Male, male. Ma siamo forti signora. Cosa vorrebbe dal governo? Che sì. È contenta del ristoro che hanno annunciato? Sì. Serve? Sì, compro la cartigenia. Grazie signora. Libertà! 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 Eccomi di nuovo. Allora, siamo dovuti venire via perché, come sentite dalla confusione e come vedete anche in lontananza, sono arrivati quelli con passamontagna, eccetera, e purtroppo sono cominciate le cariche. Purtroppo quella che era la manifestazione di tanta gente arrabbiata, di tanti laboratori arrabbiati che volevano solo manifestare il loro dissenso e la loro richiesta del diritto al lavoro, del diritto ad avere una vita e dell'incapacità di questo governo di gestire la cosa pubblica, purtroppo è spociata in questo. Noi ci siamo dissociati, siamo venuti via alla prima carica e questa è la situazione adesso.